E' finita nel sangue la rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in Viale della Regione. Dei calci alla macchina sembrerebbero siano stati la scintilla che ha innescato la lite intorno alle ore 2.30 nell'area vicina al distributore di benzina, frequentata il fine settimana da numerosi giovani, anche se carabinieri, stanno cercando di far luce sul movente che appare ancora poco chiaro. Dalle parole infatti sembrerebbe che si sia passati a una scazzottata, poi culminata con il ferimento del proprietario dell'auto, un 29enne nisseno. Tre colpi difendente tra il torace e il fianco che hanno fatto accasciare il giovane per terra mentre stava risalendo sulla sua auto. Il 29enne è stato trasferito d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Elia. I medici hanno temuto il peggio per il giovane a causa di una morragia e una lesione renale provocata da una coltellata, tenendolo sotto osservazione tutta la notte. Scongiurato l'intervento chirurgico che era stato prospettato nelle prime ore, le sue condizioni sono buone. Il giovane non è in pericolo di vita anche se rimane la prognosi riservata dai medici. Serrate le indagini dei carabinieri sin dalle prime ore per tentare di individuare le persone coinvolte nella rissa che hanno vagliato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti. Dieci in tutto le persone coinvolte, tutte nissene, così come è stato riscontrato dalle immagini. I carabinieri hanno anche ritrovato nei cassonetti di viale della regione degli indumenti sporchi di sangue che sono stati sequestrati. Le indagini adesso puntano a risalire alle singole responsabilità dei giovani coinvolti, di chi ha partecipato alla rissa e di chi ha materialmente inferto le coltellate. Quest'ultimo rischia la pesante accusa di tentato omicidio.